I ginecologi del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, Daniela Manunzio e Massimo Sorace, sono stati condannati in sede civile nell'ambito del processo Mala Sanitas al risarcimento di danni. Oltre 2 milioni di risarcimento che, in secondo grado, ha visto la Corte d'Appello di Reggio Calabria riformare la sentenza emessa nel 2019. Il Tribunale aveva condannato 9 imputati con pene che andavano dai 2 anni e 3 mesi ai 6 anni e 2 mesi di reclusione. Per lo stesso reato, condannato a 2 anni e 4 mesi il ginecologo Alessandro Tripodi, assolta invece da altra accusa di falso, accusa per la quale, con la formula perché il fatto non sussiste reato, assolta anche l'ostretrica Giuseppina Strati, che in primo grado era stata condannata a 3 anni, la ginecologa Daniela Manunzio. Per quest'ultima, condannata in primo grado a 6 anni e 2 mesi di reclusione, la Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione di tutti gli altri capi di imputazione. Prescritte infine le accuse nei confronti degli altri imputati, la neonatologa Maria Concetta Maio e ginecologa Antonella Musella, Filippo Sacca, Massimo Sorace e Marcello Tripodi. Per quest'ultimo, la prescrizione è già dichiarata dai giudici di primo grado. Assoluzione per la Manunzio e prescrizione per Sorace, in sede penale, che hanno però visto la condanna in sede civile.